Ultima partita anche per il Sanquirico United in Serie B, gioca in casa dell'SCC Napoli, la squadra marchiata da Red Bull da questa stagione, Mirko purtroppo deve retrocedere, poi vedremo la classifica a fine match, la partita in sé per sé non è molto importante, Napoli salvo Sanquirico ormai già retrocesso, vediamo cosa succederà in questo grande stadio molto pieno, nonostante sia l'ultima di campionato, subito al 71esimo, la partita viene sbloccata dal Napoli dopo un primo tempo molto combattuto, gol di Laurenzi, 71esimo numero 19 di Laurenzi, realizza questa rete, vediamo l'azione, palla a limite dell'aria, destro ribattuto, la palla torna alla Laurenzi, vediamo finta, va sul destro, violentissima botta da fuori e partita che finisce qui, vediamo la classifica, vede Sanquirico United piazzificarsi al nono posto finale con 12 punti, 2 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, fine qui dell'avventura in Serie B.